Bentornati sul Fantavirus, nel video di oggi vediamo 5 scommesse vinte in questo fantacalcio, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like a questo video. Bene, ora possiamo iniziare la prima scommessa vinta in Messias del Crotone, che dopo un inizio così e così adesso sta facendo molto bene, segna e fa segnare, ed inoltre è titolarissimo, sta facendo anche meglio del compagno di riparto più affermato Sini. Altra scommessa vinta, altro attaccante delle nuopromosse, stiamo parlando di Inzola dello Spezia, che addirittura ad ottobre non faceva ancora parte dell'effettivo organico della squadra, si sta dimostrando un ottimo giocatore al fantacalcio, 10 partite e 7 reti, addirittura meglio di alcuni famosi bomber. La terza scommessa vinta è tra ore del Sassuolo, il giovane trequartista è stato scurato nella prima parte di campionato da una forma straripante di Djuricic, ma il suo talento è uscito nelle ultime giornate, e non dimenticate che stiamo parlando di un classe 2000. Altra scommessa vinta è sottile, l'ala di proprietà della Fiorentina sta facendo molto bene alla corte di Di Francesco, dopo un inizio non buono e una folta concorrenza si è preso il posto da titolare adesso, per il Cagliari è un titolarissimo. L'ultima scommessa vinta del video è Zaccagni, il trequartista del Verona non solo ha confermato ciò che Di Buona ha fatto vedere lo scorso anno, ma addirittura si è migliorato notevolmente con un rendimento da top di reparto, al pari del Papu Gomez al primo anno di Gasperini. Bene ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like a questo video.